segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te era il governo non c'era il governo in maniera palpabile c'era qualche rappresentante delle istituzioni ma non c'era il governo che segno è pessimo devo dire pessimo i funerali di giulia ed è un'onda che io credo e spero durerà hanno visto giganteggiare una figura che è il papà gino che ha fatto un discorso meraviglioso meraviglioso e che continua a tenere saldo questo ancoraggio a valori che non hanno nulla a che vedere con l'odio con la vendetta nulla di tutto questo in un'occasione del genere il fatto che non ci fossero né rappresentanti del governo detto altrimenti giorgia meloni la presidente del consiglio nella leader dell'opposizione devo però anche aggiungere e cioè ellis line è gravissimo secondo me non si tratta di speculare su una morte ma di dare un senso a quello che è accaduto e soprattutto assumere su di sé l'impegno di fare in modo che giulia non sia una delle tante poi arriva la prossima ma da adesso in poi cambia la strategia cambia la politica cambia il nostro orizzonte culturale ma anche operativo cioè facciamo cosa rispondo con l'obiezione che ti farebbero entrambe giorgia meloni ed ellis line giorgia meloni ti direbbe non volevo diventare io la notizia innescando eventuali delle contestazioni eventualmente ellis line ti risponderebbe non volevo apparire come una che voleva cavalcare strumentalizzare in un funerale un dolore privato respingerei con nettezza sia l'una che l'altra obiezione perché ripeto il modo con cui ci si sta poi fa la differenza e quello che io temo moltissimo proprio per questa assenza che secondo me è clamorosa e che pian piano anche sui femminicidi come succede peraltro su un altro piano con le morti sul lavoro che se non ne muoiono cinque vabbè ce n'è uno in più cada il grande oblio che è quello che non deve succedere e questo perché non accada però dipende dalla politica soprattutto dalla politica oltre che da noi e da eroi civili come gino senti